Hai 40 anni e hai finalmente capito che devi raggiungere la libertà finanziaria. Ma da quale tipo di investimenti devi iniziare per raggiungere il tuo obiettivo? Ma soprattutto, qual è il tuo punto di partenza? Vi ho già parlato di quelli che sono i fattori necessari per poter raggiungere la libertà finanziaria. Vi voglio ricordare il capitale iniziale, la conoscenza delle materie economiche e finanziarie, la conoscenza delle materie tecnologiche, o meglio, la capacità di usare la tecnologia, lo stile di vita, il potenziale lavorativo e la famiglia. Questa volta però non voglio parlarvi genericamente di quelli che sono i fattori per raggiungere la libertà finanziaria, ma voglio entrare nello specifico con l'esempio di un soggetto di 40 anni. soggetto di 40 anni che ha deciso finalmente di impegnarsi per raggiungere la propria libertà finanziaria, per poter finalmente non dover più lavorare, senza aspettare l'età della pensione. Se questo tipo di contenuti ti interessano, ti affascinano, allora ti invito a seguire il mio canale, magari lasciami un like e nei commenti scrivimi quello che vorresti che io trattassi o che approfondissi. Io sono Francesco Giannini e dal 2002 aiuto le aziende a creare le proprie nuove idee di business ed espanderle. Sono un project manager e sono a tua disposizione se anche tu avrai bisogno di una consulenza per creare la tua azienda o espanderla. Dovendo fare un esempio pratico, in questo caso parliamo di un soggetto quarantenne, Sia per questo video, ma varrà per tutti i prossimi video che tratteranno l'argomento appunto degli esempi teorici, ma innestati nella vita reale, sarà necessario creare un modello. Un modello a cui fare riferimento. Per fare questo modello dovremo porre delle semplificazioni. Semplificazioni che andremo a porre su quelli che sono i sei requisiti di cui prima vi ho voluto ricordare, quindi capitale, conoscenza delle materie tecnologiche, finanziarie, eccetera. Nello specifico presupporremo che il nostro soggetto abbia una buona conoscenza tecnologica, quindi abbia la capacità di accedere serenamente al web e trovare informazioni. Al contempo abbia già una base in merito alla materia finanziaria, una base che potrà completare con le informazioni che, grazie alla tecnologia, potrà andare a reperire. Daremo anche per scontato che il proprio stile di vita, che lo stile di vita del soggetto, sia consono al risultato sperato, quindi a raggiungere la libertà finanziaria. Ultimo, non ultimo, daremo anche per scontato che la sua famiglia collabori. Perché facciamo questi presupposti? Perché poniamo questi paletti? Quattro su sei li voglio bloccare come paletti. Vi spiegherò semplicemente. Lo studio delle materie tecnologiche, o meglio, la conoscenza tecnologica e lo studio delle materie finanziarie dipendono esclusivamente da noi, quindi siamo noi a decidere di studiare. Se un soggetto non è disposto a fare questo, è un soggetto che non vuole raggiungere la libertà finanziaria. Va da sé che anche lo stile di vita, su cui io batto tantissimo, perché per me è fondamentale, e infatti gli dedicherò sicuramente uno o due video appositi, lo stile di vita è governato e deciso dal nostro soggetto. Se il nostro soggetto non adotta un corretto stile di vita per raggiungere i propri obiettivi, allora il soggetto non vuole raggiungere gli obiettivi. Come abbiamo visto, già tre su sei paletti sono fondamentalmente in mano unicamente al soggetto che deve raggiungere l'obiettivo sperato. L'ultimo paletto, la famiglia, in realtà non dipende esclusivamente dal nostro soggetto. Poco possiamo farci se nel nostro gruppo familiare a un certo punto c'è qualcuno che non è in linea, che non sia in linea con i nostri obiettivi. Però sicuramente non è compito mio risolvere questo problema, io posso soltanto augurarmi che la vostra famiglia sia in linea con i vostri obiettivi. Pertanto voglio dare per scontato che dei sei paletti necessari, ben quattro siano totalmente in vostro possesso, siano governati da voi. Entriamo quindi nel dettaglio e voglio sottoporvi cinque casistiche di individuo quarantenne inserito nel mondo del lavoro che abbia un rendito e che quindi possa essere per noi una base di partenza per capire in quale di queste casistiche noi potremmo identificarci. Caso A, 1200 euro al mese di reddito e un patrimonio liquido di 10.000 euro. Caso B, 1500 euro al mese di reddito, patrimonio di 30.000 euro. 15 anni di mutuo ancora da pagare per un'abitazione del valore di 130.000. Caso C, 1700 euro al mese, patrimonio di 60.000 euro. 10 anni di mutuo ancora da pagare per un'abitazione da 170.000. Caso D, 2000 euro al mese, patrimonio di 100.000 euro, 5 anni di mutuo ancora da pagare per un'abitazione da 200.000 euro. Caso E, 2500 euro al mese, patrimonio di 150.000 euro, oltre al possesso dell'abitazione del valore di 200.000 euro. Quindi diamo per scontato che qui non ci sia mutuo. In queste casistiche rientra praticamente la sergrande maggioranza della popolazione. Considerato che la nostra media nazionale, parlo di media nazionale, prevede una retribuzione mensile media di 1.700 euro. Quindi l'italiano medio percepisce 1.700 euro al mese. Il nostro patrimonio personale medio di un italiano è di circa 300.000 euro, inclusi liquidi e immobili. Quasi sempre in questi immobili c'è la casa di proprietà. Avremo modo, in uno dei prossimi video, di discutere ampiamente, in vari prossimi video, di discutere ampiamente del concetto inerente agli immobili, perché l'italiano ha una particolare passione per la casa di proprietà. Di fatto, in questo patrimonio medio, come ho appena detto, è quasi sempre inserita una casa di proprietà, una casa che è poi la propria abitazione. Gli italiani sono uno dei popoli con la maggior percentuale di case di proprietà. Vivono quasi tutti in case di proprietà. Nel resto del mondo, nel resto d'Europa, questa percentuale è notevolmente più bassa. Analizziamo quindi brevemente, perché l'obiettivo di questo video non è spiegarvi che tipo esatto di investimento fare, investire in quell'ETF piuttosto che in quel titolo azionario. Dei sì ragionare su quello che è il modus operandi per investire. Quindi, escludendo la fascia A e B, cioè individui che hanno un reddito inferiore a 1.500 euro mensili, un patrimonio inferiore a 30-40 mila euro a disposizione, e che nella migliore delle casistiche hanno un lunghissimo periodo di mutuo avanti ancora da pagare per una piccola casa. Per questi soggetti parleremo diversamente di quelle che sono le possibilità che hanno per arricchirsi. Escludiamo anche il caso E, quello dell'individuo che ha già un'abitazione di proprietà, che ha un reddito importante, un patrimonio importante, perché in questo caso viene governato diversamente. Voglio parlarvi di quella che è la media nazionale, quindi 300 mila euro circa di patrimonio posseduto, di cui una stragrande maggioranza sono immobilizzati nell'abitazione, e un reddito medio tra i 1.500 e i 2.000 euro. Mi sto quindi concentrando sull'italiano medio. Attenzione, perché io fino ad ora vi ho parlato di reddito medio mensile, non vi sto parlando di stipendio, non vi sto parlando di reddito da lavoro autonomo o da altre soluzioni. Per raggiungere nel modo migliore la libertà finanziaria, stipendio e reddito derivante da lavoro non sono la stessa cosa. Lo approfondiremo. Per chi mi sta seguendo già da un po', si è reso conto che questo è un percorso molto lungo ed elaborato, in cui bisogna avere veramente consapevolezza di vari mondi. Questo mondo, quello del reddito, che sia derivante da stipendio, che sia derivante da lavoro autonomo, è un mondo molto molto importante, che dovremo andare a analizzare ampiamente col tempo, proprio perché merita degli approfondimenti. Restiamo quindi comunque un po' generici su come questo individuo si procuri questo denaro, ma sappiamo di che denaro dispone. Ebbene, mentre non posso dirvi, non è il caso di dire in questo video, esattamente cosa fare, quindi che tipo di investimento fare, posso dirvi quali sono le strategie giuste da adottare, perché è questo che conta davvero. Tre sono le strategie che non potete dimenticare di fare, non potete non fare. Numero uno, 100.000 euro, il patrimonio di cui stiamo parlando a livello liquido, 80-100.000 euro, se per voi sembrano tanti, vi posso garantire che non sono nulla. Avete ancora del mutuo da pagare, avete una famiglia a cui badare, e non avete un guadagno mensile abnorme. Cosa accadrebbe al vostro mutuo, alla vostra famiglia, se voi per una qualsiasi ragione vi infortunasse, vi ammalasse, o, peggio ancora, poniamo il caso della morte, 80-100.000 euro non basterebbero, a maggior ragione ancora più della morte in caso di malattia o infortunio grave. Pertanto, la cosa più importante da fare subito è proteggervi. Una polizza a caso morte, una polizza per infortuni e malattie. Dovete garantire subito la continuità per la vostra famiglia del possesso dell'abitazione, e quindi di un valore importante, e per voi la possibilità di non intaccare il vostro patrimonio per dovervi curare. Numero due, altra cosa da fare subito. Avete 40 anni, ma quando andrete in pensione? E quando andrete in pensione? Quanto incasserete mensilmente? Ok, non possiamo dare dei numeri certi, ma più o meno ne avete un'idea? Quel valore basterà per mantenere in auge il vostro stile di vita? Basterà alla vostra famiglia per vivere? O magari vi sarà possibile vivere pochi anni in quel modo? Perché sì, ipotizziamo che avrete un patrimonio di 100.000 euro nel momento della pensione, mantenendo il patrimonio che già avete. Ma 100.000 euro, quanto durano se la vostra pensione sarà di miseri oggi 800.000 euro? A 40 anni non è ancora troppo tardi per iniziare a valutare delle soluzioni di piano integrativo per la pensione. Quindi, impossessatevi delle informazioni necessarie, ovvero quanto dovreste percepire di questo passo per la pensione, e iniziate a valutare anche una piccola integrazione, ma è necessaria. Numero 3. Se il punto 1 e 2 sono chiari, e vi ricordo che sono improcrastinabili, sono necessari per proteggere il vostro patrimonio e voi stessi, e la vostra famiglia e quello che già fate, con il patrimonio residuo potremo iniziare a investire. Questo assolutamente non significa che, avendo 80-90.000 euro sul conto corrente presso la banca X, entreremo in banca, chiederemo appuntamento al consulente, e gli diremo investi, state per fare l'errore più grande possibile. Questo è il momento in cui dovete iniziare ad acquisire consapevolezza, dovete iniziare a studiare, e dovete iniziare a capire che non potete concentrare tutto il vostro patrimonio in un solo punto. Sarebbe come entrare in un casino, prendere tutta la vostra vita e puntarla su un solo numero della roulette. Sì, potreste fare il bingo, potreste moltiplicarla all'infinito, ma potreste molto, molto, molto più probabilmente perdere tutto. E l'economia si basa su numeri reali e su statistiche. Quello che dovete iniziare a fare è iniziare a diversificare, diversificare, una delle parole più utilizzate nel mondo finanziario, e che dovete iniziare necessariamente a conoscere, diversificare i vostri investimenti. Va benissimo investire in fondi, va benissimo investire in ETF, va benissimo investire in titoli dello Stato, ma non unicamente in. Dovete diversificare il vostro tipo di investimento. Data la somma non altissima, non servirà una diversificazione abnorme, non vi servono 100 titoli azionari, 50 ETF, titoli di Stato di ogni Stato d'Europa, però sarà importante o farvi seguire da un buon consulente finanziario autonomo, non dipendente da un istituto bancario o assicurativo, oppure iniziare voi stessi a studiare le varie condizioni che vi propongono banche, assicurazioni e altri tipi di forme di investimento, e a quel punto diversificare il vostro paniere di investimento. Sempre all'interno di questo paniere di investimento assolutamente potete far entrare degli investimenti ad alto, altissimo rischio, ma qui la domanda è una e una sola. Quanto siete capaci di perdere senza piangere? Posto che il vostro patrimonio disponibile sia di 80.000 euro, quante migliaia di euro potete perdere senza litigare con il vostro compagno o compagna, moglie, marito e senza strapparvi i capelli, ammesso che ancora li abbiate? Vogliamo che sia il 10%, siete in grado di rinunciare a 8.000 euro e nessuno in famiglia si arrabbierà, né voi vi darete la colpa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Questi 8.000 euro possono essere il vostro giocattolo ad altissimo rischio. Potete in questo caso giocare in borsa, potete installare sul vostro cellulare, sul vostro desk, una delle tante applicazioni di trading e buttarvi a capofitto. Però partiamo da un presupposto, sono soldi che potete perdere totalmente. Riassumendo e concludendo, oggi ho voluto analizzare in maniera un po' più pratica quelle che sono le situazioni potenziali di partenza di un individuo. Ho voluto utilizzare un individuo della media nazionale, quindi un quarantenne, a cui abbiamo creato una forbice di reddito tra i 1.200 e 2.500 euro mensili, quindi la stragrande maggioranza degli italiani percepisce questo, è in questa forbice di reddito, e gli abbiamo dato un patrimonio che va da 10.000 a 170-200.000, patrimonio liquido, dandogli anche una casa di proprietà più o meno già pagata, quindi con un mutuo più o meno estinto, ovviamente nei casi più ricchi con un mutuo estinto, e con un valore che va dai 130 ai 200.000. Abbiamo quindi creato queste soluzioni e abbiamo scelto di parlare brevemente di quella che è la situazione dell'italiano medio. L'italiano medio ha un reddito che si aggira tra i 1.500 e i 2.000 euro mensili, 1.700 secondo alcuni studi, e ha un patrimonio totale, miscelando quindi liquidi e immobili di circa 300.000 euro. Che tipo di investimento far fare a questo individuo viene più che l'esatto investimento i consigli necessari da seguire per poter investire. E quindi, numero 1, proteggervi una polizza caso morte, infortuni, malattia, non potete permettervi con soli 100.000 euro liquidi di non avere più un ingresso economico. Numero 2, pensare alla pensione, scoprire, indagare subito su quelli che sono i vostri presupposti per la pensione, e se necessario, sicuramente sarà necessario, integrare. Numero 3, fondamentale, investire il patrimonio liquido, in maniera intelligente e diversificata, a basso rischio soprattutto, tranne per quella piccola parte, piccola parte, mi raccomando, non potete investire il 30% in strumenti finanziari ad alto rischio. Quindi, chiedetevi quanto potete sacrificare di questo patrimonio e in questo andiamo a creare un pacchettino di investimenti ad alto rischio. Cosa da non fare? Non chiamate la banca dove da 30 anni la vostra famiglia si serve, dove avete il conto corrente, non chiedete appuntamento a quel consulente per far investire lui l'intero patrimonio, sarà quello che cercherà di fare ovviamente. Invece voi, qui dovete mettere in campo il vostro desiderio di approfondire la materia finanziaria, di utilizzare la tecnologia per studiare e creare una diversificazione semplice sul vostro patrimonio. Come avrete ben capito, raggiungere la libertà finanziaria non è semplice. Diffidate totalmente di chi vi dice esattamente come investire, non sa chi siete. Può esserci un consulente finanziario che, conoscendo perfettamente il vostro portafoglio, la vostra persona, le vostre abitudini, vi sappia dare delle indicazioni e quindi entri in uno specifico, ma ogni video su YouTube, ogni podcast che vi spiega esattamente in che titolo investire va assolutamente disatteso, va allontanato, non va seguito. Voi siete individui unici, avete le vostre necessità, la vostra storia, la vostra attitudine e il rischio. Quindi, quello che si può fare per raggiungere la libertà finanziaria è installare delle giuste abitudini, studiare e andare a capire dove siano gli errori più grandi che potete fare o le giuste, corrette azioni da compiere. In questo caso, ne abbiamo parlato. In realtà, c'è ancora tantissimo da analizzare per poter creare quello che è il meccanismo che vi porterà a raggiungere la consapevolezza finanziaria e di lì la vostra libertà dal mondo del lavoro. Se questi contenuti ti affascinano e il mio modo di porgerli ti interessa, allora ti invito a iscriverti al mio canale, lasciarmi magari un like, scrivermi nei commenti se c'è qualche argomento che vorresti approfondirsi o semplicemente la tua opinione su quanto detto e ti invito a continuare a percorrere con me questa strada che ti porterà alla libertà finanziaria.